e sapete la novità no quale il mio walter si trasferisce a milano attacchi lunedì si contento ho sorella sarà ben felice di ospitarti io non sono nella tua poca nella tua cameriera qui tutti siamo una grande famiglia dio tosetto le guarnizioni e il folbert il e che ruolo gioco e lei crede che sia facile lei ha sempre pensato in piccolo rigore questa che lei è l'unico che conosco che non segue il calcio scusa ma perché non ti fa insegnare da qualcuno o ti adatti o ti licenzi ma perché proprio io perché ho letto che lei era il migliore lui parlava anche le mosche ma prima di fumarsi il cervello con quella in terreno c'è di mezzo una donna no perché mai perché c'è sempre di mezzo una donna ho visto come ti guarda sai o no farti scrupoli per me appena nati un portiere non è un giocatore come tutti gli altri ruolo unico bellissimo esaltante micidiale la gente come me ti basta una delusione ti chiudi a riccio sei un presuntuoso walter qua l'unica ragione per giocare sei te walter è solo una partita giorgio io ti vorrei vedere felice è l'occasione che hai per imparare a buttarti senza protezione come mai non si lena con noi asma bronchiale esentato come militare è l'occasione che hai per riparare a buttarti Grazie a tutti.